Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Momo Lab Sharing Time! Sapete cos'è piccoli palcoscenici? Nessun problema, Delfina è qui per dirvelo! Si tratta di una rassegna concorso che si svolge a mestre da 25 anni che dà spazio agli spettacoli finali dei laboratori di teatro di scuole e associazioni. Da sempre l'inaugurazione è riservata al Laboratorio dei Giovani del Teatro Momo, ma non quest'anno. Così vi lasciamo un estratto della serata d'apertura della scorsa edizione. Voi mettete like, condividete e attivate le notifiche dei post. Il teatro non si ferma mai!